Siamo arrivati ai saluti finali, spero che vi sia piaciuta questa puntata interattiva, mi farebbe piacere ricevere un vostro feedback. Se volete anche provare il nuovo servizio presentato da Marco Pennacchini, Nevex, fatture elettroniche o ricevere nuove informazioni, mi potete contattare via mail all'indirizzo francesco.posati.chiocciolaprlab.it, su Telegram al contatto chiocciolapposati oppure potete seguire il canale Telegram PCT Facile per aggiornamenti sulla fattura elettronica, sul processo telematico e il mondo digitale. Sono anche presente su WhatsApp al numero 328 49 70 346. Voglio terminare questa puntata con il ringraziamento alle persone che con i loro feedback hanno arricchito. Marco Pennacchini alla parte editing e audio, Francesco Spinucci per i suggerimenti nel video, Alessandro Nicolai per la parte grafica ed Eugenio Melto per le mappe e la visione di insieme. Ma soprattutto voglio ringraziare chi veramente vorrà donarmi un suo feedback per migliorare e crescere insieme. Grazie ancora, alla prossima puntata e ricordate vi chiamo il futuro digitale. Ciao!